Cari telespettatori, ben trovati in compagnia di dialoghi sulla fede, ben trovato padre Francesco. Ben trovati a voi. Allora in questa nuova puntata continuiamo il nostro viaggio in realtà appena iniziato tra i dieci comandamenti, queste dieci regole, queste dieci indicazioni che ci sono state date per cercare di vivere bene, per cercare di vivere meglio, per cercare di percorrere ogni giorno la strada più giusta perché è vero che insomma c'è stata data la libertà di scelta e il libero arbitrio che è un grandissimo dono anche se in realtà nelle puntate scorse su questa cosa ci abbiamo anche un po' scherzato perché dell'uso che poi viene fatto di questa del libero arbitrio a volte diciamo ci viene qualche dubbio, però è sicuramente un grande dono, però è anche vero che questa libertà di scelta magari ci potrebbe potrebbe portare a non sapere che cosa è meglio, qual è la strada più giusta da fare. Allora continuiamo questo cammino, innanzitutto però vi ricordo subito quali sono i nostri indirizzi per contattarci, quindi il numero per sms e whatsapp 338-127-8750, la pagina facebook di Teledeon, il canale youtube, il sito internet teledeon.it dove c'è anche lo streaming e poi la nostra app, insomma tutto per poterci contattare ma anche per poter vedere e rivedere le nostre puntate. Allora nella scorsa puntata siamo partiti dall'origine, abbiamo ripercorso la storia dei dieci comandamenti dati da Dio a Mosè sul monte Sinai affinché Israele, divenuto popolo uscito dal paese di Egitto e quindi da una condizione di schiavitù potesse avere delle regole, potesse avere delle leggi a cui rifarsi, insomma per intenderci una sorta di carta costituzionale. Allora proseguiamo questo cammino perché voglio riprendere quello che scrive Matteo, padre Francesco, in cui si legge al giovane che chiede maestro che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Gesù risponde, se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. Ora, che cosa rappresentano quindi dieci comandamenti nella vita di un cristiano? Qual è il loro valore? Che cosa ci insegnano? Perché io poi leggendo il catechismo della Chiesa Cattolica che è questo qui, leggo, appartengono alla rivelazione di Dio ma ci insegnano la vera dell'umanità dell'uomo. Sì, allora intanto dico questo che se qualcuno volesse veramente approfondire il tema dei comandamenti ma anche il tema del credo ma anche il tema della preghiera del padre nostro, uno dei testi sicuramente meglio fatti e che riesce anche di lettura abbastanza semplice, quindi alla portata di quasi tutti, è proprio il catechismo della Chiesa Cattolica del 1993, se non vado errando, provo a guardare ma mi sembra che sia così, forse l'edizione successiva però ormai c'ha qualche annetto, però sicuramente dal punto di vista come dire, dottrinale, è un sunto, è un'esposizione che in un qualche modo è molto chiara, molto sintetica, non si perde in tanti tronzoli, probabilmente qui c'è una polemica per le addette lavori sostanzialmente e la polemica sta nel fatto che, questo lo chiamiamo catechismo, tra l'altro queste parole in ismo sono sempre quelle parole che non sono neanche eccetera, eccetera, va bene, ma si utilizza il termine di catechismo, di catechesi nel senso più tradizionale, cioè nel senso dell'insegnamento dottrinale, cioè come se io dovessi in un qualche modo semplicemente dire e quindi far apprendere delle cose che sono delle cose in un qualche modo mnemoniche o comunque teoriche, proprio il brano che tu citavi, che poi citano anche gli altri sinottici, questo dottore della legge, questo tizio che viene e gli dice che cosa devo fare per ottenere la vita eterna, in realtà poi Gesù risponde sostanzialmente con, vabbè lì Matteo risponde, osserve i comandamenti eccetera, poi per esempio in Luca risponde al dottore della legge dicendogli che cosa sta scritto nella legge, come lo leggi, cioè in realtà risponde alla domanda con un'altra domanda, fa il rabbino da questo punto di vista, cioè provoca la risposta allo stesso interlocutore e in quel caso il dottore della legge dice che i due comandamenti sostanziali sono ama Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutto te stesso eccetera e il prossimo tuo come te stesso, sostanzialmente unisce l'amore verso Dio, l'amore a Dio con l'amore al prossimo. Se fate caso, proprio questa tipologia di risposta in realtà sintetizza quelli che sono i dieci comandamenti, cioè quelle dieci parole, perché? Perché quelle dieci parole in realtà sono, le prime tre di queste dieci riguardano il rapporto tra l'uomo e Dio e le seconde sette riguardano il rapporto tra l'uomo e l'uomo. Da onore al pare e la mare, cioè dal quarto comandamento fino all'ultimo, si parla dei rapporti umani, quindi dei rapporti a livello orizzontale, invece i primi tre riguardano il rapporto a livello verticale tra l'uomo e Dio. Quindi quando il dottore della legge risponde dicendo che i due comandamenti fondamentali sono amare Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, sintetizza i primi tre comandamenti sostanzialmente, cioè quelli che riguardano il rapporto tra l'uomo e Dio, e con la seconda parte della risposta, il prossimo tuo come te stesso, sintetizza i secondi sette. Quindi diciamo ha fatto una sintesi estrema di quello che sono le tavole della legge. Ma proprio in quel discorso, se si va a leggere proprio Luca, quindi ho glissato su Matteo, ma è perché secondo me è più interessante, se si va a leggere quel brano che è di Luca e che poi serve a Luca per introdurre la famosa parabola del buon samaritano, in realtà si nota che il dottore, infatti lì presentato come dottore la legge, la zecca garbugli della situazione, cioè quello che vuole andare lì a fare, cioè intanto Luca dice che gli sta facendo questa domanda per mettere alla prova Gesù, quindi va là non per avere delle risposte lui, ma per vedere se Gesù sa darle le risposte. Quasi per incastrarlo. Quasi per incastrarlo, per vedere se è capace di rispondere sostanzialmente. Dopodiché cerca di lasciare il fondo del discorso su un piano teorico. Infatti gli dice poi, e qual è il mio prossimo? Cioè qui squiglia sul prossimo, cioè vuole sapere chi è il prossimo. Gesù poi risponde con la parabola e quindi lo porta in un campo molto pratico, molto di azione, con un esempio che lascia poco spazio alle interpretazioni teoriche. Dicevo, questo catechismo appunto, dietro alle spalle, ha proprio questa polemica, cioè la polemica del fatto che qualcuno dice che questa tipologia di catechesi rimane semplicemente nell'ambito della teoria, cioè esprime e cerca di spiegare l'aspetto teorico della dottrina della fede, quindi rimane nella logica vecchia della catechesi, perché poi la logica postconciliare la catechesi dice che la catechesi deve essere esperienziale, cioè deve far fare esperienza di Cristo. Infatti i catechismi poi, quelli che vengono elaborati per esempio nel progetto catechistico italiano, di cui abbiamo anche parlato abbastanza, in realtà cercano di partire dall'esperienza, dall'esperienza della persona che si ha davanti, per farla arrivare alla realtà di Dio, per fargli percepire nella realtà in cui si vive che Dio è presente sostanzialmente. Quindi l'approccio è diverso, e quindi qualcuno critica il fatto che qua si sia rimasti di fatto nell'ambito teorico. In realtà quell'ambito teorico però è necessario, perché non si può fare i praticoni, cioè non possiamo essere quelli che improvvisano. Guardate che uno dei guai grossi del perché la catechesi oggi non funziona è proprio questa, perché chi va a fare catechesi non sa quello che fa, non sa quello che deve fare. Perché? Perché alla base ha delle grosse carenze di fede e quindi di formazione, ma anche grosse carenze dal punto di vista... Di nozioni proprio, quindi da un punto di vista teorico, di preparazione. Infatti io a Roma una delle espressioni che sentivo sempre dire dai catechisti, o spesso diciamo, ogni volta che venivano a fare catechisti, è me stasera che fanno, cioè che si fa stasera? E quando te lo dice il catechista che arriva là e non sa nemmeno che cosa deve fare, ti casca nei bracci, poi dici perché i ragazzi non ci vanno o perché i ragazzi non vengono formati. È vero che oggi a casa assorba, a casa, a scuola, negli ambienti che frequentano assorbono tutte altre cose, però è anche vero che se in quell'ora, in quelle due ore in cui ce l'hai con te, tu non riesci a trasmettere nulla, alla fine è tempo perso per tutti. Però dicevo, chi vuole approfondire... Assolutamente, questo è il testo che consigliamo. Questo è un testo che sicuramente consiglio, lo trovate anche online, potete anche evitare di comprarlo, insomma, se è un problema di costo, ma effettivamente è fatto bene. Quindi mi sono perso sicuramente. No, però la mia domanda è fondamentalmente, cioè che cosa rappresentano i dieci comandamenti per la vita di un cristiano? Perché a questo punto mi viene da dire, non sono degli ordini, non sono dei comandi che Dio ci dà, ma è effettivamente un aiuto nella vita di un cristiano o è un peso, un fardello in più, come dire, un impegno ulteriore a cui prestar fede, considerando che la natura umana invece va, per sua natura, in tutt'altra direzione? Sono d'accordo fino a un certo punto con questa cosa. Che io voglio andare in tutt'altra direzione, questo non significa, o voglio fare quello che mi pare, questo ci può stare, nel senso che ognuno di noi vorrebbe fare come gli pare. Però poi il fare come ci pare non è sempre la cosa migliore da fare. Cioè se io devo ragionare sul che cosa mi fa bene, faccio un esempio, cioè se io sono già abbastanza grosso e mi mangio tutto il frigorifero tutti i giorni, non penso di durare molto a lungo. Allora sì, mi piacerebbe mangiarmi il frigorifero, ma in realtà questa cosa non mi aiuta a crescere, non mi aiuta a stare bene. Quindi la devo evitare, cioè non è che perché mi va di fare quella cosa la devo fare. perché devo pensare anche a ciò che è bene per me. Ogni azione che io compio, ogni scelta che io faccio, dovrebbe sottendere questa domanda, è un bene per me o che bene c'è se la faccio? Cioè questa è la domanda a cui dovrei rispondere. Anche in relazione però al contesto nel quale si vive, perché tu stesso dicevi appunto in una delle prime puntate di dialoghi bisogna stare sempre attenti, perché le nostre azioni poi possono avere delle conseguenze anche sugli altri. È corretto. Quindi a chi ci vuole bene possiamo fare le cose. No, no, è corretto, perché anche qua noi abbiamo un'idea individualista della persona umana. Cioè, infatti noi spesso e volentieri parliamo di individuo. Quindi l'individuo è quello solo, cioè è quello che si isola da tutto un contesto. In realtà il concetto di persona è un concetto che racchiude la parte individuale, quindi una parte individuale, ma una parte che è sostanziale, che è razionale, che è, scusate, non razionale, relazionale. C'è anche la parte razionale, perché mi veniva la definizione classica che dava Boezio nel Medioevo, che dice che la persona individua substanzia razionalis natura, cioè sostanza individuale di natura razionale. Ecco perché mi veniva razionale. Quindi c'è anche razionale, cioè ragiona. Ma c'è anche un aspetto che magari in altri contesti non si metteva in evidenza, che oggi va messa in evidenza, che è l'aspetto relazionale. L'aspetto relazionale è un aspetto che è inscindibile rispetto a quello individuale. Cioè la persona la definisco sia per la sua individualità che per la sua capacità di entrare in relazione. Quindi il mondo di relazione fa parte della persona, non è fuori dal suo contesto. Quindi quando penso al ciò che è bene per me, questo ciò che è bene per me non è un concetto individualista e quindi egoista, ma è un concetto che coinvolge la sfera della persona a 360 gradi, cioè sia la parte individuale che la parte relazionale. Quindi quello che è bene per me normalmente coincide è quello che è bene anche per gli altri che stanno attorno a me. Perfetto. Faccio un esempio. Se io sto a casa e mi maltratto, mamma di famiglia, si maltratta perché non pensa alla sua salute, eccetera, se la mamma di famiglia si ammala, questo malessere si ripercuote in senso negativo su tutta la famiglia. E questo vale per qualsiasi membro, no? Non è perché ci va bene, ma io faccio come mi pare. No, faccio come mi pare, è un accidente, perché nel momento in cui tu ti fai male, fai male a tutti quelli che stanno con te. Non è inscindibile questa cosa. E quindi facendo per esempio un paragone con la Carta Costituzionale, allora la Carta Costituzionale in qualche maniera regola la nostra, diciamo, attività da un punto di vista appunto delle istituzioni, diciamo, l'aspetto più, diciamo, civile, diciamo, della nostra organizzazione proprio come nazione. invece i dieci comandamenti sono... Sì, tu, giustamente, l'ho detto anch'io l'altra volta e tu l'hai ripetuto all'inizio, no? I comandamenti sono come la Carta Costituzionale. Poi alla fine sembra stonare perché non siamo abituati a parlare in questo modo, però in realtà... No, giusto per rendere... No, 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 ma in realtà, anche perché poi a seconda maggioranza i cittadini non siano manco che la Carta Costituzionale quindi stiamo rovinati a partire da me, non è che... avete visto quando insomma quelli di striscia vanno a fare domande agli ononevoli, ai senatori, no? E li beccano impreparati. Li beccano puntualmente impreparati perché non l'hanno mai letta. però in realtà la Costituzione che cos'è? È l'atto fondamentale che sancisce il perché stiamo insieme e quindi sancisce il modo sì, ma direi la natura in un qualche modo del fatto che stiamo insieme. Sancisce il perché. Se stiamo insieme ci sarà un perché. su che cosa stiamo insieme? Quali sono le basi del perché non stiamo insieme? Questo sancisce poi in fondo la Carta Costituzionale. Dice quali sono i parametri che mi fanno capire se io sono all'interno di questa comunità oppure sono fuori. Questo è il discorso molto in generale. E la stessa cosa vale per i comandamenti. I comandamenti sono l'atto costitutivo su cui si regge l'unità del popolo di Israele. Lo dicevo l'altra volta. Prima dell'arrivo al Monte Sinai quindi sotto il Monte Sinai in realtà il popolo non si è mai sentito un aggregato esatto popolo quindi unito unito una comunità un'unica comunità si è sentito sempre una sorta di accozzaglia la chiamo io di tribù cioè io c'ho la mia famiglia tu c'è la tua eccetera si ci tolleriamo eccetera però alla fine ognuno poi sta per i fatti suoi. La prima volta che si sentono interpellare come con il tu cioè voi siete il mio popolo in fondo quindi è Dio che li chiama voi siete il mio popolo io sono il vostro Dio no? E' proprio sotto il Monte Sinai perché noi siamo popolo quindi un unico popolo che ha come Dio l'unico Dio bisogna che noi viviamo quindi secondo delle logiche queste logiche che sono definite dai comandamenti in realtà mi danno i parametri fondamentali che mi dicono se io sono fuori o dentro questa comunità che chiamo popolo di Dio perfetto non fa una piega effettivamente insomma ci hai dato diciamo subito il quadro completo in maniera semplice ci hai ecco detto come è la situazione a proposito del decalogo ti faccio un'altra citazione allora sono la prima tappa necessaria nel cammino verso la verità il suo inizio la prima libertà scrive Sant'Agostino consiste nell'essere esenti da crimini come sarebbero l'omicidio l'adulterio la fornificazione il furto la frode il sacrilegio e così via quando uno comincia a non avere questi crimini comincia a levare il capo verso la libertà ma questo non è che l'inizio della libertà non la libertà perfetta che cosa significa perché non è perfetta sì cioè non bastano i dieci comandamenti che ci voleva dire Sant'Agostino allora anche qua il discorso sulla libertà è un discorso abbastanza complesso qui sembra una cosa una parola fatta quando uno ti vuole spiegare una cosa dice è complicato lascia perdere non è perché uno deve fare così è perché effettivamente poi il discorso la libertà è un discorso complesso che cos'è la libertà se io la dovessi definire no cioè che cos'è la libertà tu segui i ragazzi prova a domandaglielo che cos'è la libertà vediamo che risposte escono normalmente l'idea che abbiamo di libertà è fare è un po' fare quello che ci pare fare quello che ci pare è quello che ci piace di più diciamo nella migliore delle ipotesi dicono così poi sono anche più pesanti normalmente ma la si esprime così la libertà in realtà questo concetto libertà è un concetto che stride con la realtà stessa della libertà perché fare quello che ci pare non è libertà intanto perché che significa fare quello che ci pare significa che per esercitare la libertà tu devi scegliere una direzione verso la quale andare perché fare quello che mi pare significa a me va di fare questa cosa la faccio e quindi la prima cosa che devo definire è che cosa voglio fare cioè qual è l'obiettivo qual è la strada che voglio per fare qual è la destinazione qual è la direzione è l'esempio che facevo tante volte anche gli studenti magari l'ho ripetuto anche qua in altre occasioni è proprio questo io dicevo agli studenti cioè immaginate di essere al centro di un goniometro il goniometro è quello strumento che si usa per misurare gli angoli si usava una volta non so che cosa usano non lo so che cosa usano e che ormai sono diventati più tecnologici sistemi laser non so che cosa o ci sarà un'app non si sa chi può dirlo no ci stanno le app per quello non ho capito come funzionano è un disastro ma comunque una volta c'erano i goniometri mi ricordo andavamo a scuola con sti cosi di plastica che rompevamo puntualmente il goniometro a 360 gradi in realtà poi chi ha studiato un po' di matematica sa che i gradi sono infiniti perché i punti sono infiniti fra un grado e un altro quindi però normalmente noi abbiamo che il goniometro parte da zero 90 180 270 poi rigira 360 che corrisponde a zero quindi è un è un girare anti-orario come si suol dire allora immaginiamo di essere al centro di questo goniometro ci siamo noi al centro immaginiamo di scegliere di andare verso zero cioè esattamente alla mia destra no? se io scelgo di andare verso zero incomincio a camminare ma se contemporaneamente io volessi andare verso zero e verso 180 gradi se le forze che mi portano ad andare da una direzione e nella direzione opposta si equivalgono io rimarrei fermo se le forze incominciassero ad essere talmente pressanti da da esercitare potere no? su me stesso incomincierei a soffrire le pene dell'inferno finché fisicamente non mi squarterei e quello che succedeva brutalmente quando si volevano punire nel medioevo alcune persone che si erano macchiate di gravi crimini si legavano a due cavalli si facevano andare i cavalli in direzioni divergenti basterebbe mandarla a zero a 90 invece che a 180 tu vai verso 45 gradi ti squarti li squartavano quindi è una cosa brutale bestiale questa è una cosa fisica ma in realtà se pigliamo questa cosa e la trasportiamo a livello di quello che succede dentro di me avrebbe la stessa cosa cioè se io scegliessi costantemente di andare in direzioni opposte o cambiassi continuamente moto direzionale dentro di me incomincerei ad avere dei moti che mi dilaniano mi squartano mi scindono c'è gente che poi diventa schizofrenica nel vero senso della parola quindi schizofrenia che poi diventa malattia mentale seria è una delle malattie mentali più gravi esistenti che purtroppo normalmente non ha possibilità di guarigione alla fine quindi quando io parlo di libertà e dico io con la libertà ci posso fare la mia libertà e fare quello che mi pare in realtà non so che cosa sto dicendo perché se la libertà è poter pensare di scegliere costantemente cose opposte o contemporaneamente cose che sono l'uno in contrasto con l'altro questa cosa mi porta a un disfacimento interiore che non mi porta da nessuna parte tante persone che hanno vissuto una vita pensando di fare quello che gli pare a un certo punto si girano indietro e vanno nella depressione più totale perché vedono crollare il mondo che pensano di aver costruito e che si regge sul nulla il problema quindi della libertà è proprio effettivamente quello di individuare una direzione e una volta che io ho individuato quella direzione e quella direzione la devo portare avanti cioè io posso scegliere pensate a uno che si deve sposare fra un miliardo di donne che stanno sulla faccia della terra a meno che non vogliamo parlare del gender ma lasciamo stare lasciamo proprio perdere perché poi non si capisce un altro giorno c'era uno che parlava dice ci stanno 58 generi che hanno io avevo già problemi con due maschi e femmina 58 faccio fatica proprio ad immaginarli comunque io posso scegliere fra un miliardo di donne sulla faccia della terra ma una volta che l'ho scelta quella donna rimane l'unica della mia vita con quella devo poter fare il cammino anche nei momenti più duri più difficili perché se io penso ogni volta di dover tornare indietro io non andrò da nessuna parte realmente cioè farò un passo in avanti e due indietro e rimarrò sostanzialmente fermo su quel centro del goniometro che non mi porta da nessuna parte e quindi in questo caso Sant'Agostino quando fa riferimento al decalogo parlando di perché dice il primo punto della libertà qual è? se io voglio camminare questo sta dicendo sostanzialmente se io voglio camminare la prima cosa che devo fare mi devo liberare da tutti i pesi che mi ancorano cioè se io voglio far salire la mongolfiera se io non mi levo dalla zavorra la mongolfiera non sale ma una volta che io mi sono liberato dalla zavorra non ho mica realizzato il progetto della libertà perché la libertà poi si orienta sempre a 360 gradi quindi ci deve essere una scelta di fondo devo capire dove devo andare perfetto effettivamente diciamo ci hai aiutato a capire una un passo ecco che diventava un po' di difficile comprensione quindi abbiamo capito no dopodiché dicevi però prima perché è un aspetto che forse era importante quando tu diceva a un certo punto ma questi comandamenti sono hai detto tipo sono per l'uomo per Dio una cosa del genere cioè non so che cosa come l'hai detto prima appartengono alla rivelazione di Dio ma ci insegnano la vera umanità dell'uomo sei d'accordo padre Francesco se ne riparliamo nella prossima puntata e allora noi ci lasciamo con questa con questi puntini di sospensione e lo vediamo nella prossima puntata grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti